176 cerchio k attraverso marco a cura di vb domanda una frase del vangelo di giovanni afferma gli uomini preferirono le tenebre alla luce ci può illuminare sul vero significato di questa frase guida spirituale è vero gli uomini non riconobbero la verità tuttavia cristo con la sua missione ha immesso se stesso come principio nel cuore di ogni uomo infatti vi furono quelli che essendo stati seminati ebbero la forza di riconoscerlo e lo seguirono ma coloro che non volevano essere seminati coloro che non erano terra fertile ma erano brulli come i paesaggi dei deserti essi non potevano riconoscere la verità che veniva detta dal cristo non potevano sentirsi mettere dinanzi le proprie pecche i propri difetti le proprie manchevolezze e tutto il disagio che discendeva da quella morale così nuova così stringente così logica e cristallina così gli uomini non riconobbero la verità e non la preferirono alla loro ignoranza al buio che ancora volge gran parte dell'umanità quanti sedicenti cristiani fanno parte del novero di questi uomini quanti spiritisti anche fanno parte di questi uomini ho veduto luoghi in cui invece di essere esaltata la verità è esaltato l'io nel nome del nostro insegnamento e nel nome dell'insegnamento del cristo continua